Ho trovato una specie di collaborazione quando ho lavorato per fare questo documentario. Non ho trovato persone che mi hanno detto no, questo non lo deve fare. A quelli che l'alluvione l'hanno vissuta e non ci sono più, a quelli che se la ricordano bene e continuano a raccontarla non privi di una sana commozione, a quelli che invece nel 66 non erano ancora nati e che ora non solo sanno cosa è stato ma soprattutto sanno cosa non dovrà più essere. La memoria della grande alluvione che colpì Firenze viene restituita, viva più che mai, con le immagini in bianco e nero del documentario che nel 1967 conquistò il leone d'argento alla Biennale di Venezia. A realizzarlo fu proprio Mario Carbone, che ormai prossimo a compiere 95 anni ha raccontato quell'esperienza. Ha ricordato la solidarietà dei fiorentini e degli angeli del fango, ma anche le preziose collaborazioni con Vasco Pratolini, un'idea della moglie, dice il regista, e con Giorgio Albertazzi. Albertazzi è perché lui era fiorentino e allora è nato soltanto per questo motivo. Era fiorentino e poi io lo conoscevo perché l'avevo incontrato in un'altra occasione a Bestazio. Allora ho pensato ad Bestazio, che credo che sia la cosa più bella del documentario, della voce lì. Carbone è stato ospite d'eccellenza all'evento ARN, un viaggio lungo il fiume tra memoria, resilienza e futuro, organizzato a conclusione del percorso triennale del progetto Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema. Il regista, che per tre giorni consecutivi filmò tutto ciò che gli passava davanti agli occhi, ci ha spiegato l'origine della sua estetica narrativa, così moderna ed empatica. Io ho adoperato la cinepresa come operavo la macchina fotografica. Cioè ho capito che dovevo eliminare il cavalletto, tutta quella armatura che certe volte è necessaria. Ha capito? Allora io, al posto della macchina fotografica, ho messo la cinepresa. Allora ho capito che non avevo bisogno io di appoggiarmi per fare delle riprese. Il percorso lungo il fiume è anche un percorso nella storia, nei ricordi, nelle memorie, elementi questi che possono e devono aumentare la conoscenza e rafforzare la consapevolezza. Solo così è possibile trasformare la resilienza in un patrimonio culturale capace di appartenere davvero alle comunità che vivono questi territori. È stato un progetto bellissimo, appunto a livello personale mi ha permesso di conoscere un evento dove io non ero nata, molte generazioni attuali non lo erano, ma è importante il valore della conoscenza e della memoria. Sicuramente l'alluvione del 66 fu un momento tragico, ma ci fu una grandissima reazione della città, cosa che mi ha colpito molto, dei fiorentini, un grande amore da parte di tutto il mondo. Nacque la protezione civile attuale, perché lo voglio ricordare, lì ci fu il seme da cui poi abbiamo oggi questa protezione civile che ci invidiano in tutto il mondo. È importante però coltivare la prevenzione, la cultura di prevenzione e protezione civile, perché questi eventi possono risuccedere e quindi noi dobbiamo essere pronti, dobbiamo investire molto sui bambini, sui giovani, insegnare le buone pratiche in caso di esondazione, alluvione, ma anche di fronte ad altri eventi estremi e dall'altra parte dobbiamo far conoscere il nostro fiume. Quel che l'Arno ha creato, l'Arno ha anche distrutto. Una presenza mai davvero silente è quella del fiume che il presidente di fondazione Sistema Toscana interpreta così come una metafora. Nel caso della Toscana c'è la metafora di un corso d'acqua che la divide in due, che la taglia in due, che quindi enfatizza se possibile le caratteristiche divisive che in Toscana ci sono, ma che sono la linfa vitale, la spinge, spinge le comunità attraversate a continue sfide. L'ultima che raccontiamo è quella del 66, ma ce ne sono state anche gli precedenti, perché le occasioni passate costituiscono uno stimolo per evitare che gli errori o le inaccortezze diventino un elemento negativo, costantemente negativo, di trascuratezza, di disinteresse e poi il futuro. Non si può dire che la regione toscana non sia una regione proiettata al futuro, proprio perché è in grado di raccogliere queste sfide, di non perdere mai l'occasione giusta non solo di raccontare la propria storia, ma anche di riuscire a riproporla in chiave moderna, in chiave contemporanea appunto. Già, la narrazione è quella, la vera protagonista di un evento che ha passato in rassegna l'iconografia moderna di fatti lontani e recenti, fatti che riguardano l'Arno e la vita che si anima sugli argini e anche molto più in là. Dalla bellezza salvata alla mostra immersiva nella galleria delle carrozze, dal videomapping su Ponte Vecchio nel cinquantesimo dell'alluvione al restauro dell'ultima scena di Vasari in Santa Croce al crocifisso di Cimabue, senza dimenticare ovviamente il redunno degli Angeli del Fango, mezzo secolo dopo, e poi i progetti di arte contemporanea delle murate, il nuovo docufilm di Tommaso Beni dal titolo Arno in uscita nel 2019 e il prezioso racconto visivo in tempo reale dell'illustratore Alessandro Bonaccorsi. Questa giornata ha proprio l'obiettivo di restituire tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni attraverso la Regione Toscana, attraverso il Comune di Firenze, attraverso il programma Scienzi Contemporanei e la Fondazione Sistema Toscana proprio sui temi appunto dell'Arno, dell'Arno come fiume, ma dell'Arno anche con momenti per riflettere sulla sostenibilità e sul distesto idrogeologico. Il lavoro però non finisce qua, del resto l'Arno continua a scorrere oggi come ieri, anche se il fiume, assicurano i tecnici, è molto più sicuro di allora. Tra l'altro il progetto, grazie al CEDAF e al Comitato Firenze 2016, ha lasciato in eredità alla città un centro di documentazione sulle alluvioni. Certo, occorre guardare lontano, ma gli obiettivi principali si possono dire raggiunti. Un aspetto positivo dal punto di vista della memoria e della documentazione, una rete che aiuta la memoria, che è indispensabile per riuscire a difendersi dalle alluvioni, ma anche un percorso positivo che se il Comitato ha contribuito a animare e ha dato qualche contributo, sicuramente migliora la consapevolezza di questa città e anche di tutti gli enti che si occupano di questi problemi. Questi sembrano i risultati principali e si dice sempre fare sistema. Ecco, io penso che ormai sia gli enti preposti tecnicamente a rischio idraulico, sia quelli preposti alla memoria e alla documentazione, abbiano fatto un bel salto. È stato detto che la resilienza non può essere regolata solo dalle norme, ma dipende piuttosto dalla consapevolezza e dai comportamenti dei cittadini. Ecco perché, ben al di là delle legittime celebrazioni, il momento di ricordo deve rappresentare il punto di partenza per la ricostruzione di una nuova coscienza collettiva. Se noi ci limitassimo a ricordare per così rievocare momenti drammatici della nostra storia, non faremo un buon servizio alla comunità. Penso invece che mantenere salda la memoria di quello che è stato, avere chiaro che cosa è stato fatto da quel momento in poi, e soprattutto veicolare oggi messaggi utili alle giovani generazioni attraverso linguaggi moderni che anche la tecnologia ci offre. Penso che questo sì sia un modo per ricordare, ma attualizzando il messaggio, attualizzando la lezione, e soprattutto provare tutti insieme a migliorare lo stato delle cose. Grazie.